Rimedi naturali contro gli insetti dell'orto Rimedi naturali contro gli insetti dell'orto I rimedi fai da te per eliminare i parassiti delle piante in modo naturale Sono molti i rimedi naturali contro gli insetti dell'orto ma bisogna imparare ad agire con saggezza per non eliminare gli insetti utili all'orto Le precauzioni d'uso non riguardano solo gli insetticidi chimici che troviamo in commercio Riguardano anche i rimedi naturali e i preparati fai da te Alcuni antiparassitari naturali sono ad ampio spettro cioè efficaci contro i parassiti e anche contro gli insetti alleati dell'orto come le coccinelle che proteggono il nostro raccolto dall'attacco degli afidi Rimedi fai da te contro i parassiti dell'orto È possibile liberarsi dei parassiti più comuni dell'orto aiutandosi con rimedi naturali e fai da te le azioni piuttosto economiche e del tutto green che ci permettono di salvaguardare le nostre piante In questa pagina vi riporteremo una serie di esempi utili per coltivare un orto biologico con pesticidi zero Contro gli afidi si può usare un decotto con 500 ml d'acqua e una piccola testa d'aglio suddivisa in spicchi oppure un macerato di pomodoro oppure ancora del peperoncino frullato diluito in un po' di acqua e spruzzato sulle foglie Contro la cocciniglia si consiglia di innaffiare regolarmente la pianta magari recuperando uno spruzzino con una mistura di acqua fredda e alcuni componenti essenziali tra cui ad esempio il tea tree oil, la propoli oppure il sapone di marsiglia L'aglio è un insetticida naturale che può essere utilizzato per contrastare la presenza dei pidocchi delle piante così come l'olio essenziale di rosmarino da spruzzare sulle foglie È importante sapere che i pidocchi delle piante mal sopportano gli ambienti umidi Per questo motivo può risultare utile ricoprire il fondo dei propri vasi con uno strato di palline di argilla espansa In linea generale l'aglio è ottimo anche per sconfiggere le cimici, gli acari e le diverse mosche che infestano le piante L'orto sinergico Quando si parla di rimedi naturali contro gli insetti dell'orto L'agricoltura sinergica ha una marcia in più Non usa alcun repellente chimico e sfrutta le proprietà naturali delle stesse coltivazioni Nell'orto sinergico Per prevenire la comparsa di parassiti e insetti nocivi Si attuano particolari consociazioni degli ortaggi e si coltivano erbe come rosmarino, timo, salvia, menta Che funzionano da repellenti naturali Ancora di più Tra le coltivazioni Nell'orto sinergico si usa a impiantare erba cipollina, cipolla e aglio Una soluzione ottimale per allontanare afidi e altri parassiti L'aglio come antiparassitario naturale L'aglio torna utile anche nell'agricoltura biologica e biodinamica Con preparati ad hoc come infusi e decotti da irrorare direttamente sulle piante Tutte le informazioni Aglio come antiparassitario naturale Decotti a base di ortica Tra i rimedi contro gli insetti dell'orto spiccano i decotti a base di ortica L'ortica vanta infinite proprietà benefiche E non manca di essere un buon fertilizzante e un buon antiparassitario naturale Antiparassitari fatti in casa Nell'articolo dedicato agli antiparassitari fatti in casa abbiamo visto rimedi naturali contro gli insetti dell'orto quali Acarioidi o pidocchi delle piante Vermiafidi Cocciniglie Lumache Malattie Fungine Muffe Decotto Decotto di equiseto Anche il decotto di equiseto può essere consigliato per la cura naturale dell'orto In particolare, il decotto di equiseto è utile nel prevenire e contrastare malattie di origine fungina Il decotto va irrorato direttamente sulle foglie colpite dal fungo Può essere usato anche solo come trattamento preventivo per favorire una crescita più vigorosa delle piante Per preparare il macerato di ortica e il decotto di equiseto vi segnalo la pagina dedicata ai pesticidi naturali Il peperoncino come repellente naturale Una soluzione acquosa ottenuta mettendo del peperoncino triturato al macero può essere molto utile per contrastare afidi e lumache Il potere irritante del peperoncino tiene alla larga diversi insetti dell'orto Le cimici verdi Le cimici verdi dell'orto possono essere allontanate con diversi rimedi naturali Tutte le informazioni Cimici verdi Come allontanarle Le foglie di alloro Se nell'orto avete problemi di scarafaggi possono tornarvi utili delle fronde di alloro Le foglie di alloro dovrebbero essere distribuite nei punti critici o nei pressi dei fori praticati dagli scarafaggi Il piretro Il piretro è un insetticida ammesso in agricoltura biologica Da molti blogger è descritto come naturale Tuttavia consigliamo di usarlo con cautela perché il suo effetto è ad ampio spettro In commercio esistono diversi insetticidi a base di piretro Possono essere acquistati sotto forma di polvere o di pratico spray liquido L'insetticida a base di piretro si trova facilmente presso garden center specializzati O può essere acquistato con la compravendita online Una confezione di Vitax spray Insetticida naturale a base di piretro Da 750 ml È proposta su Amazon al prezzo di 13,76 euro E risulta efficace per eliminare pidocchi delle piante, bruchi, formiche, cimici verdi e altri insetti dell'orto, parassiti e non